Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Lords of the Fallen e in questo video andremo a recuperare le tre tavolette runiche che serviranno al nostro fabbro, o alla nostra fabbra che dir si voglia, per andare ad upgradare le nostre armi e andare ad incastonare delle pietre al loro interno. Partiremo dalla vestigia del pallido macellaio se date un'occhiata all'interno del menu delle vestigi, quando andate su teletrasporto sopra ci sarà il nome della zona, sotto ci sarà il nome appunto che vedete adesso sullo schermo. Vi mostrerò il percorso e ve lo mostrerò senza shortcut, anche se sul canale trovate altre guide che vi mostrano come aprire quello shortcut. Comunque vi faccio il percorso completo cappando dai nemici, quindi fate esattamente il percorso che faccio io io ovviamente salterò tutti i nemici per comodità in maniera tale da andare a velocizzare il tutto perché se no non finimo più, la distanza non è proprio brevissima e quindi ci dovremmo armare un pochino di pazienza voi ovviamente fate fuori tutti, raccogliete gli oggetti che vedete mentre effettivamente andate avanti e non fate proprio come faccio io che scappo, anche perché io le zone le ho già esplorate per cui insomma raccogliete tutto. Se vedete che c'è qualche cosa che brilla che io non ho raccolto, sono delle trappole per cui non le raccogliete mi raccomando perché se no va chiappa il mostrazzo che è una presenza costante, maledetto e quindi insomma evitate di raccogliere quei drop che vedete da me che io non raccolgo le ho già monitorate io, le ho già provate io sulla mia pelle e mi ha già masticato a sufficienza l'animaccia sua. Detto ciò voi continuate ad andare avanti e a un certo punto arriveremo, io so attraversando ovviamente tutte le zone e parto proprio dalla vestige per facilitarvi il tutto arriveremo in una zona in cui ci sarà diciamo la possibilità di passare non la possibilità ma dovremmo passare per forza di cosa nel mondo dei morti quindi in Umbral e per andare in Umbral ovviamente utilizziamo la nostra lanterna e ci servirà semplicemente per attraversare un ponte quindi se riuscite ad attraversare il ponte come faccio io senza entrare nel mondo ma semplicemente camminando con la lanterna in mano tanto meglio altrimenti non preoccupatevi comunque più avanti avrete la possibilità sia di mettere un seme sia di andare a interagire con uno di quei pupazzetti voodoo strani che vi danno appunto la possibilità di tornare nel mondo normale uscendo dal mondo Umbral. Detto ciò noi una volta che arriviamo in questo punto esatto troveremo anche un mob quindi appena saltato appena scese le stare e lì troverete anche non un mob o un NPC non riesco a parlare stamattina mannaggia la miseria e arrivati a questo punto proprio in questo punto troverete la prima tavoletta runica da dare al buon fabbro quindi tornate nel lab centrale parlate con lei e dategli la tavoletta runica dopodiché proseguiamo e andiamo a prenderci la seconda per la seconda tavoletta runica ci dovremmo spostare alla vestigia di Dolna se fate fatica a trovare i punti se guardate l'immagine iniziale si vede molto tranquillamente qual è effettivamente la vestigia da cui partire perché quella è l'immagine proprio della vestigia lo vedete nella foto se non riuscite a trovarla evidentemente non l'avete ancora sbloccata quindi qui ovviamente non ho pulito dai nemici e ci sarà un po' di casino ma comunque insomma non è niente di difficilissimo io come al solito ovviamente salto tutti perché sennò uccido giusto i nemici che ci vanno a interrompere un attimino il percorso ma quelli più fastidiosi, quelli più grossi, quelli più veramente pesanti che troviamo in ogni dove li salto volentieri perché se devo ripetere il livello e riuccidere tutti i mob che ci troviamo davanti non finiamo più arrivati a questo punto ci buttiamo di sotto ed entriamo dentro questa casa e proprio davanti troveremo l'ennesimo cavaliere lì beatificato santificato dell'anima per rimortarci sua e dovremmo ovviamente far fuori i nemici che ci sono una volta fatti fuori i nemici che troviamo in questo salone basterà interagire con il caminetto all'interno ci sarà un drop e quel drop sarà appunto la seconda tavoletta runica da dare al fabbro per cui stessa cosa tornate al lab centrale consegnate la tavoletta al fabbro dopodiché andiamo a recuperare la terza partiamo dalla vestigia di fratello geremia da questo punto qui andiamo da questa parte qui dovrete uccidere per forza di cose il mob che si gira qui intorno perché vi darà la chiave della cucina uno dei due ora non mi ricordo chi è una volta che vi ho dato la chiave della cucina entrate qui dentro facciamo questo percorso io ovviamente vi mostro il percorso senza gli shortcut e vi mostro il percorso completo ve lo mostro da quella vestige per perché se no mi tocca fa tutti i livelli e non ne usciamo veramente più qui andiamo a spaccare il tutto e maurito che cos'è entriamo qui passati da questa parte andiamo qui tiriamo la signorina e ci avviciniamo da questa parte saliamo lì fate fuori quei due rovi brutti io adesso li eviterò andiamo di qua andiamo da questa parte qui facci vostra quanti siete possiamo uscire dal mondo umbral tiè non mi hai beccato e qui sotto troverete un po' di nemici ne troverete una di quelle grosse con il campanone in testa io li ho fatti fuori tutti ma insomma fate attenzione uccidete i nemici andate da questa parte qui poi giriamo di qua qui andiamo sulla destra e qui troverete altri nemici fateli fuori salite dal lato che preferite fate fuori i nemici che sono qui questo sarà uno shortcut ora vi mostro come aprirlo anche qui pieno di nemici fate fuori tutti poi andate da questa parte lì altro nemico è incazzoso fate attenzione non raccogliete questo drop è una trappola lanternina si passa avanti qui altri nemici e qui aprite il cancello che vi ho mostrato prima vedete piccolo shortcut andiamo avanti da questa parte qui tirate giù la scala che vi ricollega alla zona iniziale dove c'era la vestige qui aprite fate fuori i nemici che trovate qui mi raccomando poi andiamo qui sulla destra andiamo avanti e qui giriamo sulla sinistra questa sarà chiusa questa sarà chiusa si apre dall'interno quindi andiamo da questa parte tanti nemici arrabbiati fate attenzione anche quella si apre dall'interno quindi qui andate avanti qui continuate ad andare avanti altri nemici incazzosi lupacchiotti e cose varie e arcieri vari arriviamo qui qui andiamo sulla destra fate sempre attenzione ai nemici ve lo ripeterò un milione di volte qui andiamo su andiamo da questa parte qui sinistra sinistra qui potete mettere un seme se volete visto che laggiù c'è un boss da affrontare che è doppio oltretutto qui andate nel mondo umbral in questo modo qui salite le scale perché quella porta voi l'avrete chiusa fate il giro da questa parte girate di qua lì c'è il tizio super incazzosi adesso proverò a scappare come sono i vostri uomini e qui c'è veramente tanta gente e non ho fatto piazza pulita da questa parte ma va bene lo stesso andiamo di qua di qua su sullevate in mezzo qui rischiamo veramente tantissimo ma noi ci proviamo lo stesso se non si incastra e qui l'amino accia tua quello intendevo per un pelo lì scendiamo voi ovviamente fate fuori tutti io non lo faccio perché sennò uomo capodanno arrivati qui scendiamo le scale stiamo giù e qui possiamo aprire questo cancello che teneva quella porta chiusa vedete dove siamo saliti sulle scale siamo passati nel mondo Umbral quindi usciamo dal mondo Umbral siamo su questa balaostra giù ci saranno un fracasso di nemici per cui consiglio dall'alto fateli fuori tutti aggrateli anche quello che si troverà proprio laggiù tipo in quel punto là vicino all'altare dopodichè scendete ci saranno nemici a sinistra e a destra dove potete potrete aprire i rispettivi cancelli quindi uno lì uno lì e un altro dietro di voi attenzione brulica di nemici veramente andate di qua attendete la chiave che troverete sull'altare che è la chiave del di qualcuno che ci servirà qui poi andiamo da questa parte e qui ci siamo già passati vi ricordate e possiamo aprire questa porta qui con la chiave che abbiamo appena preso e potremmo aprire anche quella porta lì ma a noi interessa passare di là per aprire un'altra porta apritele ovviamente tutte e due visto che ci siete però insomma passiamo di qua uccidete i nemici che stanno qui me ne ho scordata uno mori pure tu a posto qui andiamo avanti qui altro nemico incazzoso con un po' di mobetti come questo qui abbastanza inutili se non avete aperto quella porta vi arriverà un altro mob ora di qua potete continuare e li trovate l'NPC che vi vende all'inizio la chiave del ponte celeste e se volete potete continuare di qua per andare avanti con la storia ma per recuperare la terza tavoletta noi dovremmo continuare da questa parte se entrate nel mondo umbral qui ci sarà un boss fatelo magari al vostro ritorno qui piantate un semino per sicurezza e andate da questa parte prima o poi beccheremo un ascensore esatto andiamo qui saliamo sull'ascensore e una volta arrivati su dovremmo fare un altro piccolo percorso per arrivare a questa terza tavoletta il percorso l'ho già registrato per cui ve lo lascio senza commento l'ho registrato senza senza commentare perché pulirlo e rifare avanti indietro era una roba veramente terrificante per cui partiamo da questo punto giovani e vi mostro il percorso per arrivare a prendere la terza tavoletta senza commento dopo di che ci troviamo direttamente al sonno del ponte celeste il ponte celeste lab centrale come si chiama lui tutto complicato in questo gioco io non lo so va bene va bene lo stesso parleremo con il fabbro gli consegneremo la tavoletta ma ci saranno da fare avremo davanti a noi due scelte e dovremo scegliere una delle due quindi vi spiegherò la differenza tra le due e poi voi potrete scegliere quale delle due effettivamente fa più al caso vostro detto questo vi lascio al percorso e ci vediamo a brevissimo un po' Grazie a tutti. 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 A tutti quelli che supportano il canale con gli abbonamenti, con i super grazie, con l'iscrizione, con i like, con i commenti, con le condivisioni e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.